La nostra ricetta di oggi è la zuppa inglese e vediamo come la facciamo io e Leo. Allora Leo, per la ricetta di oggi ci serve latte, uova, farina, zucchero e vaniglia, cioccolata, caffè, al kermes, savoiardi, mescoliamo i tuorli con lo zucchero, mettete la farina e confinate. Il metodo che utilizzeremo io e Leo per fare questa crema pasticcera è lo stesso metodo che usava la mia nonna ed è un metodo a freddo, metteremo tutto dentro la cassa ruola, mettiamo gli ingredienti tutti insieme, versiamo per prima il latte, versate le uova con lo zucchero e la farina, Girate continuamente Avete a disposizione la frusta Leo e Leo vi verrà una crema perfetta Con la cassa ruola Gem non rischierete che la vostra crema si attacchi, piano piano la vostra crema si attenzerà Dividete la crema in due Da una parte lascerete la crema pasticcera alla vaniglia e dall'altra ci andremo ad aggiungere la cioccolata Buttate la cioccolata, anche se quella che vi è avanzata di Pasqua, direttamente nella crema Ecco il risultato finale Una crema pasticcera al cioccolato fondente Disponete i savoiardi Bagnate con il caffè Coprite con la crema al cioccolato Sponete il secondo strato Bagnate i savoiardi con l'alchermes aiutandovi con un pennello o con un semplice cucchiaio Completate la preparazione con la crema pasticcera alla vaniglia Per finire, decorate con qualche pezzettino di cioccolato Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!